L'espressione apostasia silenziosa fu utilizzata da Papa Giovanni Paolo II nell'esaltazione post-sinodale Ecclesia in Europa dell'anno 2003. La cultura europea, scriveva il Santo Padre, dà l'impressione di una apostasia silenziosa da parte dell'uomo sazio che vive come se Dio non esistesse. Si tratta dunque di una apostasia, cioè di un rinnegamento della fede, che avviene però molte volte non necessariamente in forma esplicita tramite un chiaro rinnegamento della fede, ma bensì in forma silenziosa, in cui, come scriveva bene Giovanni Paolo II, l'uomo sazio vive come se Dio non esistesse. L'uomo che può benissimo non rinnegare Dio in teoria, ma poi vivere concretamente la propria vita effettuando scelte che manifestano tutto l'opposto, ovvero il rifiuto pratico di Dio e della sua legge. Ma vediamo insieme qualche breve stralcio di questo documento che analizza un po' la situazione della Chiesa in Europa. Siamo all'inizio degli anni 2000, ma così scriveva Giovanni Paolo II. Il tempo che stiamo vivendo, con le sfide che gli sono proprie, appare come una stagione di smarrimento. Tanti uomini e donne sembrano disorientati, incerti, senza speranza, e non pochi cristiani condividono questi stati d'animo. Numerosi sono i segnali preoccupanti, tra cui vorrei ricordare lo smarrimento della memoria e delle eredità cristiane, accompagnato da una sorta di agnosticismo pratico e di indifferentismo religioso, per cui molti europei danno l'impressione di vivere senza retroterra spirituale e come degli eredi che hanno dilapidato il patrimonio loro consegnato dalla storia. Non meravigliano più di tanto perciò i tentativi di dare un volto all'Europa escludendone la eredità religiosa, ed in particolare la profonda anima cristiana, fondando i diritti dei popoli che la compongono senza innestarli nel tronco irrorato dalla linfa vitale del cristianesimo. A questo sbarrimento della memoria cristiana si accompagna una sorta di paura nell'affrontare il futuro. L'immagine del domani coltivata risulta spesso sbiadita ed incerta. Del futuro si ha più paura che desiderio. Ne sono segni preoccupanti, tra gli altri, il vuoto interiore che attanaglia molte persone e la perdita del significato della vita. Tra le espressioni e i frutti di questa angoscia esistenziale vanno annoverati in particolare la drammatica diminuzione della natalità, il calo delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, la fatica, se non il rifiuto, di operare scelte definitive di vita anche nel matrimonio. Si assiste ad una diffusa frammentazione dell'esistenza, prevale una sensazione di solitudine, si moltiplicano le divisioni e le contrapposizioni. Tra gli altri sintomi di questo stato di cose, l'oderna situazione europea conosce il grave fenomeno delle crisi familiari e del venir meno della stessa concezione di famiglia, il perdurare o il riproporsi di conflitti etnici, il rinascere di alcuni atteggiamenti razzisti, le stesse attenzioni interreligiose, l'egocentrismo che chiude su di sé singoli e gruppi, il crescere di una generale indifferenza etica e di una cura spasmodica per i propri interessi e privilegi. Agli occhi di molti la globalizzazione in corso, invece di indirizzare verso una più grande unità del genere umano, rischia di seguire una logica che emargina i più deboli e accresce il numero dei poveri della terra. Ma tutte queste cose, sembra dire Giovanni Paolo II, sono soltanto conseguenze di una causa ben più profonda. Così scrive il Santo Padre. Alla radice dello smarrimento della speranza sta il tentativo di far prevalere un'antropologia senza Dio e senza Cristo. Questo tipo di pensiero ha portato a considerare l'uomo come il centro assoluto della realtà, facendoli così artificiosamente occupare il posto di Dio e dimenticando che non è l'uomo che fa Dio, ma Dio che fa l'uomo. L'aver dimenticato Dio ha portato ad abbandonare l'uomo, per cui non c'è da stupirsi se in questo contesto si è aperto un vastissimo spazio per il libero sviluppo del nichilismo in campo filosofico, del relativismo nel campo della conoscenza e nel campo della morale, del pragmatismo e fin anche dell'edonismo cinico nella configurazione della vita quotidiana. La cultura europea dà l'impressione di una apostasia silenziosa da parte dell'uomo sazio che vive come se Dio non esistesse. Siamo di fronte all'emergere di una nuova cultura, in larga parte influenzata dai mass media, dalle caratteristiche e dai contenuti spesso in contrasto e con il Vangelo e con la dignità della persona umana. Di tale cultura fa parte anche un sempre più diffuso agnosticismo religioso, connesso con un più profondo relativismo morale e giuridico, che affonda le sue radici nello smarrimento della verità dell'uomo come fondamento dei diritti inalienabili di ciascuno. I segni del venir meno della speranza talvolta si manifestano attraverso forme preoccupanti di ciò che si può chiamare una cultura di morte, altra espressione chiave, utilizzata da Giovanni Paolo II e che ritroviamo anche nell'enciclica Evangelium Vitae. Ma l'uomo non può vivere senza speranza. La sua vita sarebbe votata all'insignificanza, diventerebbe insopportabile. Spesso chi ha bisogno di speranza crede di poter trovare pace in realtà effimere e fragili. E così la speranza, ristretta in un ambito intramondano, chiuso alla trascendenza, viene identificata, ad esempio, nel paradiso promesso dalla scienza o dalla tecnica, o in forme varie di messianismo, nella felicità di natura edonistica procurata dal consumismo, o quella immaginaria e artificiale prodotta dalle sostanze stupefacenti, in alcune forme di millenarismo, nel fascino delle filosofie orientali, nella ricerca di forme di spiritualità esoteriche, nelle diverse correnti della New Age. Tutto questo però si rivela profondamente illusorio ed incapace di soddisfare quella sete di felicità che il cuore dell'uomo continua ad avvertire dentro di sé. Permangono così e si acuiscono i segni preoccupanti del venir meno della speranza, che talvolta si manifestano anche attraverso forme di aggressività e di violenza. Nessun essere romano può vivere senza prospettive di futuro, tantomeno la Chiesa, che vive dell'attesa del regno che viene e che è già presente in questo mondo. Per cui qui il Santo Padre sottolinea anche alcuni segni di speranza, segni dell'influsso del Vangelo di Cristo nella vita della società. Segno visibile di questo e grande segno di speranza è costituito dai tanti testimoni della fede cristiana vissuti nell'ultimo secolo, all'est come all'ovest. Essi hanno saputo far proprio il Vangelo in situazioni di ostilità e persecuzione, spesso fino alla prova suprema del sangue. Questi testimoni, in particolare quanti tra di loro hanno affrontato la prova del martirio, sono un segno eloquente e grandioso che ci è chiesto di contemplare ed imitare. Essi ci attestano la vitalità della Chiesa, ci appaiono come una luce per la Chiesa e per l'umanità, perché hanno fatto risplendere nelle tenebre la luce di Cristo. In quanto appartenenti a diverse confessioni cristiane, risplendono anche come segno di speranza per il cammino ecumenico, nella certezza che il loro sangue è anche l'infa di unità per la Chiesa. Ancora più radicalmente essi ci dicono che il martirio è la suprema incarnazione del Vangelo della speranza. I martiri, infatti, annunciano questo Vangelo e lo testimoniano con la loro vita fino all'effusione del sangue, perché sono certi di non poter vivere senza Cristo e sono pronti a morire per Lui nella convinzione che Gesù è il Signore ed il Salvatore dell'uomo e che quindi solo in Lui l'uomo trova la pienezza vera della vita. In tal modo, secondo l'ammonimento dell'Apostolo Pietro, si mostrano pronti a rendere ragione della speranza che è in loro. I martiri, inoltre, celebrano il Vangelo della speranza perché l'offerta della loro vita è la manifestazione più radicale e più grande di quel sacrificio vivente, santo e gradito a Dio che costituisce il vero culto spirituale, origine, anima e culmine di ogni celebrazione cristiana. Altro grande segno di speranza è poi la santità di tanti uomini e donne del nostro tempo, non solo di quanti sono stati proclamati ufficialmente tali dalla Chiesa, ma anche di coloro che, con semplicità e nella quotidianità dell'esistenza, hanno dato testimonianza della loro fedeltà a Cristo e hanno vissuto una santità generosa ed autentica nel nascondimento della vita familiare, professionale e sociale. E concludiamo questa nostra breve rassegna parlando del rimedio indicato da Papa Giovanni Paolo II per curare questa salute precaria, ecco, della fede della Chiesa in Europa e che il Santo Patre indica nel ritorno a Cristo, fonte di ogni speranza. Nel contesto dell'attuale pluralismo etico e religioso, che va sempre più caratterizzando l'Europa, scrive, c'è bisogno di confessare e riproporre la verità su Cristo come unico mediatore tra Dio e gli uomini, mediatore unico e costitutivo di salvezza per l'intera umanità. Solo in Lui, l'umanità, la storia e il cosmo trovano il loro significato e si realizzano totalmente. Egli ha in sé stesso, nel suo evento e nella sua persona, le ragioni definitive della salvezza. Egli non è solo un mediatore di salvezza, ma è la fonte stessa della salvezza. Egli non è solo un mediatore di salvezza. Egli non è solo un mediatore di salvezza, ma è solo un mediatore di salvezza. Grazie. Grazie.